è il salame puro d'oca quack dall'aroma fine delicato e leggermente dolce salame puro d'oca quack è ottenuto dalla lavorazione del 100 per cento di carni d'oca con sale e spezie naturali e senza conservanti una fonte ricca di omega 9 6 e 3 utili per il buon funzionamento dell'organismo cosa aspetti metti sulla tua tavola la bontà del salame puro d'oca quack ma ricorda il salame puro d'oca è solo quack